L'ite tra fratelli degenera, uno estrae la pistola e spara all'altro, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civile. Un uomo con problemi psichiatrici si barica in casa con l'anziana madre e minaccia di farsi esplodere, alta tensione a Chiari. Buona notizia Poncarale, non c'è il cesio radioattivo, ora si attende l'inizio della bonifica della discarica ex Metalli Capra. Nessuna sorpresa o forzatura del Consiglio, la FIGC vuole attendere il Consiglio di Stato prima di riammettere il Brescia. RIGSAVE CAPITAL, investire consapevolmente. Una buonasera e un buon sabato dalla redazione di E-Live, benvenuti a una nuova edizione del telegiornale che in apertura vede una pagina davvero ampia di cronaca, è stata una giornata davvero molto movimentata in terra bresciana. Partiamo dall'ultimo fatto accaduto in ordine di tempo nel pomeriggio a Bufalora, una sparatoria, una lite degenerata fra due fratelli e la vittima attualmente è grave, versa in gravi condizioni all'ospedale civile di Brescia. Attimi di paura nel pomeriggio di sabato a Bufalora, in via San Benedetto, attorno alle 15, una lite fra due fratelli è degenerata in una sparatoria. Il fatto è avvenuto nel cortile dell'azienda agricola adiacente all'abitazione dei fratelli. Pare che già da tempo fra i due non corresse buon sangue, ma le esatte cause di quest'ultimo diverbio sono ancora lo studio dei carabinieri di Brescia. Sta di fatto che uno dei due, il 69enne Giovanni Pesce, ha estratto una pistola regolarmente detenuta e ha sparato 4 o 5 colpi in direzione del fratello Francesco, di un anno più giovane. Soltanto uno dei vari proiettili esplosi ha colpito la vittima allo esterno lasciandola in gravi condizioni. Dopo la stabilizzazione sul posto da parte dei sanitari del 118, il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale civile di Brescia per le cure. I militari intervenuti a Bufalora hanno invece arrestato chi ha premuto il grilletto e sequestrato l'arma. E questa mattina invece a Chiari, un uomo con problemi psichiatrici, si è barricato nell'appartamento che condivide con l'anziana madre, madre non autosufficiente, ha barricato completamente questo appartamento e ha minacciato di far esplodere alcune bombole di gas che conservava all'interno. Fortunatamente la situazione si è risolta nel migliore dei modi con l'intervento del negoziatore dei carabinieri. Mattinata ad alta tensione in via Avis a Chiari, dove un uomo di 57 anni con problemi psichiatrici si è barricato nella propria abitazione con l'anziana madre minacciando di far esplodere alcune bombole di gas. Secondo quanto riporta Dorso Bresciano del Corriere, la vicenda ha avuto inizio attorno alle 8. L'uomo, non nuovo a episodi sopra le righe, tanto da aver ricevuto un TSO nelle scorse settimane, aveva letteralmente sprangato l'appartamento che divideva con la donna 86enne utilizzando delle sedie. Immediato l'intervento dei carabinieri di Chiari con il supporto di un militare negoziatore inviato dal comando provinciale. Fortunatamente la trattativa è durata poco e infine il 57enne ha deciso di aprire una finestra del terrazzo dalla quale i carabinieri sono potuti entrare nell'abitazione immobilizzandolo. Dopo una valutazione psichiatrica l'uomo è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona e fortunatamente l'anziana madre ne è uscita in colume. Lo scorso anno nel Bresciano si erano verificati altri due episodi simili. Il più noto è certamente quello avvenuto a Roncadelle in ottobre quando un uomo si era chiuso in casa per diverse ore con il figlioletto strappato dalle mani dell'assistente sociale ma a gennaio in città una donna si era trincerata nel proprio appartamento di Brescia 2 minacciando di farsi saltare in aria e urlando dalla finestra sinistri presagi. Alla stazione di Brescia ora dove da alcune settimane a questa parte il questore Rodolfo Spina ha avviato una serie di controlli straordinari volte in particolar modo contrastare lo spaccio di droga e l'immigrazione regolare allora scopriamo qual è stato il bilancio di queste verifiche nell'ultima settimana. La questura torna a puntare la propria attenzione sulla stazione di Brescia. Nelle ultime settimane infatti il questore Spina ha intensificato i controlli per migliorare la sicurezza nella zona con particolare riferimento allo spaccio di droga e all'immigrazione regolare. Solo negli ultimi sette giorni le pattuglie hanno controllato 400 persone molte delle quali già note e con precedenti. In 13 sono state denunciate per vari reati come microspaccio e porto ingiustificato di coltello. Sono stati quattro gli stranieri espulsi con accompagnamento coatto alla frontiera e in barco su voli di rimpatrio mentre altrettanti sono stati scortati nei CPR centri di permanenza per i rimpatri. Fra questi gli agenti della polizia di stato hanno fermato due quasi trentenni con tre condanne relative agli stupefacenti e due decreti di espulsione. Oltre a un 45enne già espulso nel 2017 a seguito di reati come spaccio, rissa, ingiurie, rapine e minaccia. Da via Botticelli fanno sapere che questo genere di verifiche proseguiranno anche nelle settimane a venire per rendere più sicura un'area molto sensibile della nostra città. E controlli con gli stessi obiettivi che ravinieri hanno effettuato in queste ore anche a Darfo Boario Terme più in generale nella bassa valle Camonica con particolare attenzione su quelle che sono le vecchie strutture ricettive abbandonate ormai da anni. Il Borsone era ben nascosto fra i rifiuti ma la sua presenza non è sfuggita alla squadra cinofila della stazione Carabinieri Polizia Militare dell'Aeronautica del sesto stormo di Ghedi che con i militari di Breno hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nella bassa valle Camonica con grande attenzione al comune di Darfo Boario Terme. In particolare le divise si sono concentrate sui numerosi alberghi abbandonati della zona fra cui figura anche il Grand Hotel Terme in centro al paese. L'ex struttura ricettiva è infatti nota per essere rifugio di senza tetto e clandestini. Durante la perlustrazione di questi locali i cani del nucleo cinofilo hanno subito individuato il Borsone dentro cui c'era circa mezzo chilo di droga fra cocaina e hashish. Le due sostanze erano già suddivise in dosi e quindi erano pronte per la vendita. Nella sacca sono stati rinvenuti anche 2000 euro frutto dell'attività di spaccio. Nella serata di ieri è divampato un incendio in un'azienda di calcinato. Fortunatamente vista l'ora nessuno era presente e nessuno è rimasto ferito. Incendio domato e nessun ferito ma ci sono volute due ore di lavoro per avere la meglio sulle fiamme divampate nella serata di venerdì in un'azienda di calcinato che si occupa dello stampaggio di articoli in vetroresina per i parchi acquatici. La notizia più importante è che vista l'ora nello stabilimento non era presente nessuno. Erano infatti circa le 21.20 quando è stato lanciato l'allarme per l'incendio e subito la centrale operativa ha inviato sul posto tre squadre dei vigili del fuoco con cinque mezzi e 15 operatori. Le operazioni di spegnimento e di bonifica si sono concluse come detto in circa un paio d'ore. Il lavoro dei tecnici ha permesso di limitare le fiamme ai circa 80 metri quadrati del settore finitura evitando quindi che si propagassero nel resto del sito produttivo. Sul posto per le indagini erano presenti anche i carabinieri di Desenzano del Garda. Appreso nei giorni scorsi che ci sono i fondi 7 milioni di euro circa per la bonifica dell'ex discarica metalli capra in territorio di Capriano del Colle. In queste ore un'altra buona notizia questa volta riguarda le campagne del comune vicino di Poncarale. Non è stato trovato dalla regione il cesio radioattivo che si temeva di trovare quindi ora tutta l'attenzione è sul mese di ottobre quando appunto si spera cominceranno le operazioni di pulizia. Assenza di contaminazione da cesio 137 lo indicano gli esiti delle analisi radiometriche condotte sui campioni prelevati dei nuovi piezometri situati a Poncarale in località Cascina Ortigara. Le analisi sono state effettuate sui campioni di acque sotterranee prelevati lo scorso giugno nell'ambito delle attività di monitoraggio dei siti radiocontaminati attorno alla ex discarica Capra. Con prudenza e cautela ha dichiarato Antonio Zampedri, sindaco di Poncarale, possiamo smorzare alcuni allarmismi che si sono generati in queste settimane. È fondamentale che le istituzioni siano unite per comunicare la reale situazione e per arrivare nel minor tempo possibile a raggiungere il grande obiettivo della messa in sicurezza dell'area, conclude il sindaco. La disponibilità del comune di Poncarale è massima. Ora l'obiettivo è quello di arrivare in tempi brevi a una bonifica attesa da decenni. Nelle scorse settimane la notizia che dalla curatela fallimentare dell'ex azienda bresciana Raffineria Metalli Capra sono arrivati i fondi per la messa in sicurezza della discarica di Capriano del Colle. La volontà è quella di avviare i lavori di cinturazione e capping entro ottobre. Continuiamo a parlare di ambiente con due notizie molto diverse in realtà che riguardano anche quello che è il tema dell'agricoltura sostenibile, della transizione ecologica di queste realtà molto presenti sul nostro territorio. Spostiamoci sul nostro quotidiano online www.laibrescia.tv per leggere insieme appunto questa notizia riguarda un bando regionale o meglio dei finanziamenti regionali circa mezzo milione arrivato ad aziende agricole della nostra provincia proprio per ridurre le emissioni e nel dettaglio quelle che sono le emissioni di ammoniaca in atmosfera. Un programma che in totale per lo sviluppo rurale ha visto fondi stanziati per circa 21 milioni di euro a 162 aziende. Questo è stato l'ultimo scorrimento della graduatoria e sono sei le aziende agricole bresciane ad aver ottenuto il finanziamento portando nella nostra provincia un totale l'abbiamo detto di circa mezzo milione 484 mila euro. Con questa operazione saranno attivate dalle aziende in tutta la Lombardia ovviamente coperture di vasche per una superficie totale di quasi 260 mila metri quadrati a cui si aggiungeranno 53 mila metri cubi tramite strutture di stoccaggio non fisse. Ovviamente soddisfatto lo trovate nella dichiarazione a margine dell'articolo l'assessore regionale Alessandro Beduschi che ovviamente loda quelle che sono le aziende lombarde che dice non hanno niente da invidiare nell'impegno verso un'agricoltura sempre più sostenibile e rispettosa dell'ambiente e annuncia che entro ottobre sarà aperto un nuovo bando che metterà a disposizione un milione per finanziare acquisti di macchine, attrezzature, coperture e impianti di trattamento. E sempre in tema di transizione ecologica delle aziende agricole pare che sia un'usanza sempre più in voga un po' in tutta Italia secondo uno studio però questi passaggi e questi investimenti diciamo non sempre sono totalmente voluti ma sono un po' forzati. Le imprese agricole sono sempre più propense a investire nel green, una su due lo farà entro il 2024 ma la transizione è vissuta dalla 47 per cento delle aziende come una scelta obbligata dettata dalla necessità di rispettare le regole imposte a livello nazionale ed europeo dai timori legati all'inquinamento e dal cambiamento climatico. Dorileva un'indagine del centro studio Italia Carne e di Union Camere. Tra le cause più rilevanti che inducono le aziende ad avviare investimenti per ridurre l'impatto ambientale, l'aumento dei prezzi delle materie prime ed energetiche e più in generale il vantaggio competitivo che questi investimenti comportano. Nel complesso le imprese agricole condotte da giovani e da donne mostrano in media una maggiore propensione ad investire nel green mentre le imprese localizzate al sud e nelle isole evidenziano una minore sensibilità in materia. Più inclini a effettuare spese verdi le imprese di dimensioni maggiori, il 64 per cento di quelle con oltre 50 addetti e il 61 per cento di quelle tra 10 e 49 addetti. L'abbiamo detto nelle scorse edizioni del telegiornale, questo è il primo fine settimana da bollino nero per l'esodo estivo, sono milioni e milioni gli italiani che si sono o si stanno per mettere in viaggio verso le località di villeggiature. Come ogni anno uno degli appelli più importanti è quello di fare attenzione a quelli che vengono normalmente chiamati topi d'appartamento, queste le parole e anche i consigli dell'assessore regionale alla sicurezza, Romano Larussa. Dopo le vicissitudini e quello che è avvenuto dal punto di vista climatico, cerchiamo ora di non peggiorare la situazione in agosto che è il mese in cui i topi d'appartamento sono particolarmente attivi. La polizia di Stato, i carabinieri, la polizia locale fa di tutto perché vi possa essere una maggior sicurezza, ma incominciamo noi a casa nostra e mi rivolgo soprattutto a quelli un po' più anziani, anziani come me, a stare attenti a non lasciare, intanto la casa non chiusa a chiave e assicurarsi che sia ben chiusa. Cerchiamo di evitare che la posta si accumuli troppo nella cassetta delle lettere, non arrotoliamo lo zerbino davanti a casa che è un segno evidente che non c'è nessuno in casa, chiediamo immediatamente aiuto alle forze dell'ordine al primo sospetto e attenzione non mandiamo sui social particolari sui nostri spostamenti, sulle nostre partenze e magari le nostre date di arrivo, questo è fondamentale. Un momento imprescindibile di questi giorni nei nostri telegiornali è quello dedicato al meteo, fortunatamente nella serata di ieri non si sono registrati danni e la prevista andata di maltempo è stata più leggera di quanto si pensava e così ben venga, ma allora proviamo a dare uno sguardo anche a cosa succederà la prossima settimana anche per chi ha la fortuna di essere in vacanza l'estate, pare che stia tornando. Ben trovati un aggiornamento con la nuova settimana quando l'anticiclone da ovest raggiungerà l'Italia, da ovest ci sarà questa buona anticiclonica dalla Spagna, dalla Nord Africa, bel tempo su tutte le nostre regioni con ampi rasserenamenti, solo in montagna qualche locale temporale sulle Alpi settentrionali e lungo la dorsale appenninica. Le temperature saranno comunque estive ma un caldo piacevole e moderato nella prima parte della settimana, poi probabilmente da giovedì in poi il caldo si farà intenso ovunque. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo. E grazie come sempre a Trebi Meteo, ci prendiamo ora qualche secondo di pausa ma rimanete con noi perché c'è ancora da parlare di sport, a fra poco. Nella sezione E-Live Play del nostro sito internet. Puoi ascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Riconoscimento speed, invio denaro, bollo auto, fototessera. Fai tutto da Tom & Jerry. Tabaccheria.servizi a San Polino. Paghi i bollettini e prelevi contante. Paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico. Tom & Jerry. Facile, veloce. Aperto tutti i giorni, festivi esclusi, in via degli Alpini 33 a San Polino, Brescia. Una buonasera anche agli amici sportivi di E-Live. Parliamo di Brescia Calcio in questa edizione del nostro telegiornale. Lo facciamo perché ieri c'è stata una seduta del Consiglio federale della FIGC. Consiglio che si sapeva non sarebbe stato decisivo. Infatti la FIGC ha deciso di attendere quello che sarà l'esito, il verdetto del Consiglio di Stato a fine agosto sul futuro del Brescia Calcio. Brescia Calcio che intanto perde un'altra pedina. In realtà già si sapeva perché era svincolato. Si tratta di la Boico. Nessuna novità dall'ultima seduta del Consiglio federale in merito alla riammissione del Brescia Calcio in Serie B. Non che novità fossero attese visto che il recente pronunciamento del Tar non è uno che i tanti passaggi di un'estate in cui tutto ciò che è sport di fatto sta passando in secondo piano. Preso atto delle decisioni del Tar che ha accolto il ricorso dell'eco e bocciato quello della regina, ha reso noto la FIGC in una nota dopo la riunione, il Consiglio federale ha confermato che procederà all'integrazione dell'organico della Serie B solo all'esito dell'ultimo giudizio. Si spetterà quindi il Consiglio di Stato ad oggi fissato al 29 agosto. Ad oggi perché da più parti si vocifera della possibilità di un cambio con una data più prossima visto che all'inizio del nuovo campionato mancano ormai soltanto due settimane. Il rischio con i tempi dei tribunali è quello che a fronte di una riammissione quasi assodata il Brescia debba attendere e vivere i primi turni da spettatore per poi recuperare in autunno. E la situazione tiene al palo per forza di cose anche il mercato. Ci sono gli obiettivi come soleri del Palermo ma il rischio è di farseli soffiare a causa dell'impasse. Nel frattempo ha salutato Brescia il centrocampista polacco Jakub Laboico che da svincolato va verso la Ternana. Tre stagioni a Brescia e ognuna diversa dalle altre ha scritto su Instagram. Tanti momenti belli e alcuni amari. Volevo ringraziare tutti quelli che ho incontrato sulla mia strada. Grazie a voi ho potuto sentirmi parte di una bellissima comunità, ha concluso il giocatore. Grazie Brescia, un grande in bocca al lupo, sarai sempre con me nel mio cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.